Senatore, un numero esiguo di vaccini distribuiti nonostante siamo in piena emergenza coronavirus? Sì, siamo stati sollecitati dai medici di base questa mattina perché la consegna è approssimativamente di circa 34 vaccini a ogni medico di base, su una ricerca media di 3-400 per ogni medico di base stesso. Il direttore generale ci ha rassicurato che il ciclo di consegna avverrà nel giro di 20-25 giorni con uno scaglionare degli stessi. Quindi questi primi 34, cada uno, verranno fatti entro oggi e domani. La prossima settimana ci sarà anche un'altra fornitura e così via. Loro immagino e ipotizzano che entro 20 giorni sarà assolutamente consegnato le dosi di vaccini occorrenti che chiaramente sono in aumento rispetto alla richiesta degli anni precedenti, anche rispetto al sentiment che in questo momento chiaramente tutti gli italiani e tutti i cittadini del mondo vivono per questa benedetta pandemia. È chiaro che un altro problema che ponevano i medici di base era andare a mettersi in fila per il ritiro degli stessi. Il direttore generale su questo ha garantito e chiarito che li potrà consegnare presso il domicidio degli stessi medici di base. Quindi è una situazione di emergenza apparentemente rientrata? Assolutamente sembra sotto controllo. I medici di base continuano a chiedere quando e con tempi. Lui ha garantito che nella giornata di oggi avrebbe mandato una mail descrittiva di quanti e in che tempistiche questi cicli di consegna verranno e quindi loro potranno così organizzarsi il lavoro. Quindi sembra che ci sia sotto controllo questo tipo di paura e di crisi ma che i medici legittimamente hanno perché hanno a loro volta tutti i propri pazienti che incidono giornalmente andando a chiedere presso ogni studio medico quando si possono fare il vaccino.